Io sono molto vecchia, non vedrò la fine di questo processo, però siccome sono molto affezionata alla vita cerco di campare ancora lungo. Ecco, cerchiamo di perdere. No, no, non ho nessunissima voglia di andarmene, sono proprio molto contenta di stare qui finché è possibile. Mi diverto anche, non mi è mai piaciuto il militante che nel 68 chiamavamo militonto, veramente. No, no, il militante dice, mi sacrifico, mi sacrifico, ma perché te? Punto. Ma c'è bisogno di andare a cercare i sacrifici, ti vengono addosso lo stesso, quindi non cercarli. Invece è molto importante dire gioia e rivoluzione, il primo gruppo a cui mi sono iscritta nel 68 si chiamava gioia e rivoluzione, meno male. Perché questa faccenda che l'attività politica è per forza, diciamo, punitiva, ti suscita poi la voglia di venticarti, mi sono tanto sacrificato che adesso che ho il potere vi faccio affette tutti quanti. Non voglio assolutamente una cosa di questo genere, quindi continuo volentieri a stare al mondo a fare l'attività politica in questo modo, cercando anche di divertirmi. Fino adesso ci sono anche riuscita. Grazie a tutti.